La chiesa di Sant'Anna, sul Corso Cabur, fu fondata pochi anni dopo il terremoto del 1693, ad una sola navata con transetto su cui si imposta la cupola su un tamburo ottagonale. Fra le opere conservate al suo interno, si segnala una tela proveniente da occhiola raffigurante la Madonna di Odigidria.